anzi guarderai forse si deve mettere la terra o devo provare qualcos'altro allora spirito della terra eccoci signore e signore contro lo spirito della terra è veloce questo cuore la cazzo vabbè allora metti affaloso non l'ho usato contro qualcos'altro che si sa dopo ragazzi non l'ho usato no 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 Ah, davvero? Cosa è ancora? Il passavobus è facile, invece... C'ho pensato tanti, cavoli! Ecco, però... Nooo! 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 C'è la con me questo genco che ce lo so... Pronti? Putta questo dopo... Nooo! Ah, via! Nooo! Ah, via! Scuttrà! Ah! Concetta! E' morto! Come ho fatto a dare questo corpo enorme? Come ho fatto? Ma non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Non mi interessa, adesso c'è il boss vero, 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 vero di questo livello. Grazie.